Buongiorno 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 Adesso vi farò vedere come faccio il refill delle mie unghie Non so dove devo guardare Ma vabbè mi abituerò Comunque adesso Mi strucco Metto un po' di Comiscellare bio Questa qui Non fate caso al mio brufoletto Che mi è uscito perché non lo so Ok allora Io la metto in questi patufoli Di cotone Io mi trovo benissimo con questa Perché Toglie veramente Le cose rimanenti Infatti guarda Ok ragazzi C'è anche se Ti strucchi la sera Comunque rimane un po' di residui Che con la crema non mi trovo molto In tutti qua Allora ragazzi Come prima cosa Vado a togliere il colore E quindi opacizzare L'unghia Che comunque È gel sotto Facciamo velocemente Iniziamo da qui Ok ragazzi Sono andata a sbattere questo Perché è veramente Pieno di polvere Delle unghie Del gel Eccetera E Non mi trovo a lavorare Con questo Comunque come potete vedere Ho tolto il giallo E Adesso passiamo allo step successivo Dopo averle limate Andiamo a pulirle con questo Prodotto Che non mi ricordo come si chiama Ah il cleaner Esatto Con il cleaner Così Serve per togliere La polvere in eccesso Che rimane sull'unghia Adesso vado ad applicare Il primer Che lo devo trovare E lo andiamo ad applicare Sulla parte Della ricrescita Ok Adesso andrò a mettere Il gel Metterò questo E poi come colore sopra Ci metterò Un bianco E farò quest'unghia Tutta brillantinata Io Non sono Esperta Però io non ho fatto Nessun corso E Sto imparando adesso E faccio pratica Su me stessa Come pennello Uso questo Con la punta Così Adesso la vado a bagnare In questo Per farla Ammorbidire Io ci faccio Così Sì Voglio allungarle E mi sono decisa Perché Non mi piacciono corte Le ho fatte corte Solo per il lavoro Proprio Ho detto Ce la farò Lo stesso Dunque per mettere La cartina Sull'unghia La tip Questo Coso Che era Coso Sì Che era qua in mezzo Io lo metto qui Per rinforzare La cartina In questa parte Perché poi verrà Così Piegata E sistemata Sull'unghia Ecco Adesso Io Applicherò Per farvi vedere In quest'unghia Come funziona Allora Quello che vado a fare È fare una pallina Di gel Attorcigliata Al pennello Così Si vede E andrò Prima di tutto A sistemarla A metà unghia Dove finisce Facendo dei movimenti Circolatori Circolari Come si dice Scusate Non so parlare Non so se riuscite a vedere Però ci devo vedere Se non io sbaglio Già non sono molto brava Vedete Ho fatto una pallina Poi si va A stendere Prima In su Da quanto ne so io Ma non vi fidate Troppo Ragazzi L'ho messa Nella lampada Adesso Aspettiamo Bene ragazzi Allora Io sono arrivata A questo punto Le ho messe Le ho allungate E devo ancora Limare Ho soldato Un po' la forma Ma devo limarle Sopra Perché se vedete Sono tutte Storte E invece Qua sono ancora così Ora Andiamo avanti Ragazzi Allora Ho finito Di Fare con la lampada Anche se dopo Ci farò qualche ritocchino Mi si è spezzata Quest'unghia Come unica Joy Ma nel frattempo Sto limando Gli sto dando La forma E dopo Rifarò Quest'unghia Che si vede Che l'ho fatta Un po' male Quella La curva Che si vede È la bombatura Che a me piace Piace veramente Tanto E quindi La faccio Anche molto Spessa A volte Fin troppo Poi Facciamo Un po' qua Adesso Vado a mettere Il bianco Tranne In quest'unghia Ragazzi Siamo a buon punto Guardate Adesso Devo fare Il contorno Con Il drill Bene ragazzi Ho finito Finalmente È stato un parto Ci ho messo 3000 ore Però Lo completate Comunque Posterò la foto Su Instagram Di come sono venute A me piacciono abbastanza Dai Potevo fare meglio Però Va bene Anche così E niente Allora Un saluto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Mettete un like E commentate Fatemi sapere Se vi sono piaciuto Se no Se posso fare di meglio O no E Ciao ciao Babies Grazie a tutti